Si sono tenuti ieri pomeriggio alle 16.30 i funerali di Pietro Volpe, 92 anni. Era il papà di Francesco Volpe, funzionario del comune di San Mauro Cilento. Adesso ai domiciliari insieme al sindaco Carlo Pisacane, al vice sindaco Fernando Marrocco, all'assessore Angelo Di Maria e ai consiglieri comunali Fabrizio Cusatis e Pasqualino Volpe e al segretario comunale Claudio Auricchio e all'altro funzionario Angelo Cilento e insieme all'amministratore delegato di una ditta di trasporti operante nel settore della raccolta dei rifiuti, Alfonso Palmieri. L'uomo sarebbe morto per un attacco cardiaco proprio in seguito al blitz dei militari avvenuto all'alba di due giorni fa. Sempre durante l'operazione dei carabinieri, anche la figlia di 10 anni di Marrocco, il vice sindaco è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari per una crisi respiratoria e anche Pasqualina Volpe, madre di uno dei consiglieri comunali, ha avvertito un malore.